Ti prego, non dirmi che ci stai provando con Riley. Non riesco a resistere. Credo... Credo che mi piaccia davvero, non lo so. La conosci praticamente da tutta la vita. Come fai a non saperlo? Mi chiudeva nell'armadietto ogni giorno alle medie. Ma abbiamo malato sul terrazzo al matrimonio e... Una parte di me non riesce a smettere di pensare a lei. Quale parte? Tutte e quante. E non sempre sono d'accordo. E solo pensare che io possa piacerle.